Si chiamava Lau O-Chi ed è morto, assiderato dopo essersi addormentato su di una panchina. Era un famoso attore di Hong Kong, si è spento congelato nel corso della notte dopo aver dormito su di una panchina lungo il litorale vicino al centro di Sim Sha Tsui. È stato ritrovato privo di vita, ripeto, per colpa delle rigide temperature che sarebbero scese oltre i 23 gradi centigradi. L'uomo non dormiva da tempo in casa sua perché non poteva permettersi di pagare le spese di un affitto eventuale, quindi ipotetico. Problemi finanziari su problemi finanziari, non poteva consentirsi di affittare un appartamento a Hong Kong, una città tra le più costose del nostro pianeta della terra. Nonostante fosse abbastanza conosciuto per le performance, era stato costretto, o meglio era costretto, a vivere in una strada. Al freddo e al gelo di questo inverno 2019. Insomma, l'uomo non ce l'ha fatta. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, la UOC. Riposi in pace, Amen.